Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. La depressione si sposterà verso Levante, andandosi a posizionare sulla Grecia. Lo spostamento verso Levante però attiverà forti venti di tramontana lungo tutto l'Adriatico, con clima abbastanza fresco. In settimana le temperature torneranno lentamente ad aumentare, ma ad oggi non è prevista nessuna ondata di caldo intenso. Andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per lunedì 3 luglio. Al mattino ancora qualche possibile rovescio sul Gargano, Coste e prima introterra Batte e Barese. Nel corso della mattinata migliora ovunque grazie ai venti forti di tramontana che manterranno i cieli sereni e puliti. Temperature stazionarie nelle massime, intorno ai 22-26 gradi. In calo le minime nelle zone più interne, anche sotto i 16 gradi. Venti molto forti di tramontana, in leggera attenuazione dalla sera. Mari, molto mosso agitato l'Adriatico, in particolar modo il canale d'Otranto, molto mosso invece lo Ionio. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Luigi Chiriaco per questa incantevole volta celeste, immortalata dalla famosa grotta della poesia a Rocavecchia nel Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci all'email e al numero whatsapp che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.